Ecco adesso Monaldi anche in campo Primo possesso per l'Agribert Tocchio Orzinuovi Jorgensen si butta dentro, trova lo spazio e i primi due punti Fida ora a Gasparin Jorgensen scambia di nuovo con Gasparin Jorgensen, Gasparin 5 secondi per concludere l'azione Palla a Basile che dalla lunga distanza si alza ed è preciso 3 punti Basile riceve il pallone, si butta dentro Schiaccia, subisce il pallone Alla fine favorisce il rimbalzo di Leonzio Dall'altra parte Alessandrini Prova a liberarsi dalla marcatura, bravo Alessandrini Dopo il rimbalzo in attacco Riporta la sua squadra sul più 6 Jorgensen fuori per Alessandrini Da Basile 5 secondi, 4 per concludere l'azione Fuori per Gasparin Palleggio resta il tiro per Gasparin Devasi alla linea della carità Jorgensen Prova buttarsi dentro Fuori per Basile Jorgensen ha spazio per tirare da 3 Jorgensen e va a segnare Quarto Trapani si butta dentro Trapani Va a segnare Un super canesto di Gaspardo Che pesca un po' il jolly Mentre Donzelli Le consegna a Trapani Bella palla di Trapani Per Donzelli Per Basile Basile Per Leonzio Da 3 Leonzio Segna